Tra pochi giorni parte la quattordicesima edizione del Festival d'Autunno, primo appuntamento quello con Steve Hackett, uno che ha scritto pagine importanti del rock con i Genesis e ora arriva a Catanzaro con il suo progetto acustico. Che concerto sarà? Innanzitutto sarà l'unico concerto che Steve Hackett proporrà in Italia, quindi è un'esclusiva nazionale con cui si inaugura appunto la quattordicesima edizione e questo concerto appunto vedrà la presenza sul palcoscenico insieme a Steve Hackett di due grandi musicisti che lo accompagnano sempre in questo genere di concerti e sono appunto Roger King alle tastiere e Rob Towsend ai fiati. In modo particolare questo musicista Rob Towsend appunto suona diversi strumenti a fiato e ciò consentirà al concerto di avere un sound particolarissimo che dal rock migrerà fino al jazz. D'altronde proprio il fatto di superare tutti i generi musicali era stata la caratteristica ed è la caratteristica del sound dei Genesis, dei quali appunto si ripercorreranno i successi più importanti. 45 anni di carriera quindi in scena dai grandi successi dei Genesis fino alle ultime canzoni appunto della carriera solistica di Steve Hackett. Quindi veramente grande attesa e grande affluenza da tutta Italia per questo evento che già si preannuncia unico. Come dicevo prima è l'unica data in Italia quindi stiamo avendo notevole riscontro in tutte le città e c'è il nostro sito www.festivaldautunno.com dove appunto ci sono tutte le informazioni necessarie e siamo molto orgogliosi appunto che la Calabria sia riuscita ad ospitare un evento così importante che sicuramente farà rivivere appunto le canzoni e il sound veramente unico dei Genesis, uno dei gruppi più importanti a livello internazionale che era amatissimo all'epoca ma tuttora appunto è molto seguito soprattutto dai giovani quindi un concerto transgenerazionale sicuramente.